Il quinto anniversario della tragedia della lanterna azzurra. Ieri dopo mezzanotte sei rintocchi di campane nei comuni dove risiedono i familiari delle sei vittime della strage dell'8 dicembre 2018. Le campane a ricordare Asia, Daniele, Emma, Mattia, Benedetta ed Eleonora, cinque ragazzi e una giovane mamma morti nella calca di quella notte quando alcuni delinquenti spruzzarono spray al peperoncino per scatenare il caos e derubare. Oggi altra commemorazione con una messa a Senigallia alle 10, poi le iniziative per la terza giornata del divertimento in sicurezza istituita dalla regione Marche. Dico Rinaldo, si parla anche sui giornali. Iniziamo da qui la nostra rassegna stampa. Partiamo dal Carlino, la moglie morì nella calca, cresco da solo quattro figli e di notte sogno ancora Eleonora che riesce a salvarsi. Parla Paolo Curi, il marito di Eleonora Girolimini, 39 anni, morì appunto alla lanterna azzurra di Corinaldo. Cerchiamo di vivere come se lei fosse ancora qui con noi, le parole di Paolo Curi, intervistato dal resto del Carlino. Ci spostiamo sul Corriere Adriatico, cinque anni dalla lanterna azzurra. Cara Premier, ci aiuti per la legge, l'appello del COGEU, il Comitato per la Sicurezza nei locali istituitosi proprio dopo la tragedia di Corinaldo, chiede una giornata non solo regionale ma nazionale e i familiari delle vittime reclamano giustizia perché la vicenda di Corinaldo è ancora nei tribunali e allora su questo c'è il servizio di Guido Maurino. Non è possibile tornare indietro, riavvolgere il nastro di quella sera in cui cinque ragazzi e una giovane mamma morirono nella calca di una discoteca per lo spray spruzzato da una banda di borseggiatori in un locale non sicuro. Ma i familiari e gli amici in questi cinque anni non hanno mai smesso di cercare giustizia perché quello che è successo non capiti ad altri e la giustizia ha già fatto il suo corso almeno in parte. Della banda dello spray sei condanne sono già diventate definitive in Cassazione con pene fra i dieci anni e nove mesi e dodici anni e sei mesi mentre un settimo componente nel frattempo è deceduto. Resta ancora in piedi il processo per il presunto ottavo uomo della banda scoperto e processato dopo gli altri che a maggio è stato condannato in primo grado a dieci anni e cinque mesi col giudizio abbreviato. Poi c'è il filone che riguarda la sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra e che si è diviso in due processi. In primo grado sono stati condannati fra i tre anni e i cinque anni i proprietari, i gestori del locale e il responsabile della sicurezza. In totale sette persone che hanno usufruito degli sconti di pena previsti per il rito abbreviato. Il secondo processo, sempre sulla sicurezza invece, si sta celebrando col rito ordinario ed è quello cosiddetto più politico che coinvolge i membri della commissione pubblico spettacolo, fra cui l'ex sindaco di Corinaldo, che hanno autorizzato la discoteca Lanterna Azzurra a operare. Qui siamo ancora nella fase del dibattimento e la sentenza di primo grado è attesa in primavera. Se dai processi si attende giustizia, quello che è successo cinque anni fa ha comunque mosso in profondità tutta la regione, dall'associazione Cogeo, che si batte per la sicurezza nei luoghi del divertimento, al consiglio regionale che ha istituito tre anni fa l'8 dicembre come giornata del divertimento in sicurezza.